Io come la penso io personalmente avrei preferito giocare la prima in casa perché comunque la prima partita già capisci tante cose e comunque ti puoi portare in vantaggio, ti puoi portare in svantaggio e così via. Però abbiamo la prima fuori che ci dirà come dovremmo poi comportarci in casa perché sicuramente un risultato negativo poi ti comporta che l'ansia, tutta la gente comunque devi fare la prestazione e vincere la partita. Quindi andremo sicuramente lì non chiusi a mio avviso perché non dobbiamo vedere queste partite che non prendiamo gol perché se andiamo lì e pensare va bene non prendiamo gol magari giochi tutta la partita 90 minuti per non prendere corpo e magari un gol lo prendi. Quindi dovremmo andare lì a fare la partita perché sono due partite fondamentali. Ma l'andata vabbè come hai detto tu le prime partite sono un po' strane poi ricordo faceva molto caldo una buona squadra soprattutto davanti che aveva esterni forti e perdemo 2-0. Poi la partita di ritorno quella ancora ci è rimasta qui perché abbiamo perso due punti perché abbiamo pareggiato che magari ci potevano dare la nostra strada. Quindi sappiamo che con l'Umezane dobbiamo tenere sempre gli occhi aperti perché proprio quella partita ci pareggiano all'ultimo secondo. Quindi pagherei oro veramente per fare un gol della salvezza ma come penso io andrebbe bene qualsiasi altra persona perché sia per me che comunque se otterrà male è troppo importante. Perché fino a due anni fa sognavamo qualcos'altro adesso ci troviamo qui magari a lottare per non retrocedere. Quindi dipende tutto da noi come detto perché abbiamo la classifica a favore e dobbiamo fare risultato a tutti i costi. Perché come ripeto questa è una piazza che non è costruita per fare i play out sinceramente per salvarsi. Quindi ci dobbiamo tirare fuori noi perché ci siamo incappati in questa brutta annata. Siamo arrivati sicuramente con dilusione perché potevamo salvarci dipendeva da noi. Dopo che avevi due partite in casa e altre partite pure in casa col Parma non riesci a vincere. Purtroppo sprofondi giù e è giusto che come ripeto ci siamo messi in questa situazione. Però ci arriviamo anche un po' carichi perché ultimamente come ripeto non stiamo prendendo gol e dopo la vittoria comunque di Salò ci ha dato penso uno sprint in più. Ma come penso io tutta la squadra è carica perché nessuno vuole sprofondare. Poi ti ripeto la partita di Lumezzane dell'andata secondo me ci dirà già tantissime cose.